Ci troviamo presso il Teatro dello IAV in Napoli dove abbiamo assistito alla presentazione del network immobiliare più grande nel mondo Remax Eccellenze. A presentarci il gruppo e ad illustrarci i risultati raggiunti abbiamo ascoltato ai nostri microfoni il titolare e broker dottor Giovanni Pascarella. Cosa significa fare broker? Io mi occupo di aiutare le persone a creare una carriera di successo nel settore immobiliare grazie al supporto di un'azienda che è la numero uno al mondo, grazie alla formazione, ai percorsi formativi, ai piani di marketing che ci aiutano in Italia a vendere casa ogni 20 minuti. Non esistono segreti, la formula commerciale che utilizza Remax e che è stata ideata oltre 50 anni fa in America e oggi diffusa in tutto il mondo è una formula innovativa, permette agli agenti immobiliari di stare bene, Remax è anche un acronimo, significa real estate maximum, il massimo dell'immobiliare, sia per il cliente finale che otterrà il miglior servizio, al miglior prezzo, nel miglior tempo e con la massima soddisfazione, ma anche per l'agente immobiliare che può trovare il giusto equilibrio tra ciò che produce, ciò che guadagna e soprattutto la massima autonomia per poter gestire la sua attività nel miglior modo possibile e trovare il giusto equilibrio anche con la vita privata, con le proprie passioni e quindi migliorare la qualità della vita. Tutto ciò si trasforma anche in un maggiore potenziale per quanto riguarda i servizi che potrà offrire ai clienti finali. I plus di Remax eccellenze sono innanzitutto quello di garantire un contesto ideale per poter sviluppare per un consulente immobiliare un operato di altissimo livello e quindi garanzia di professionalità e trasparenza. Consiglieresti ad un amico di lavorare in Remax eccellenze e soprattutto se sì perché? Sicuramente sì, sia se questo amico abbia iniziato la carriera di agente immobiliare e quindi non l'abbia mai fatto nella sua vita, sia un amico agente immobiliare, ne ho tanti dopo 30 anni che non sono parte di Remax. Questo perché in entrambi i casi il percorso professionale si può adattare, si è seguiti e anzi si è molto attenti all'inserimento delle nuove persone all'interno del nostro ufficio.